Tocca a te, io sono la spalla io. Te metti e io prosciutto. E siamo qui. Io ti volevo dire Carlo che sono tutti arrabbiati con questi mercatini di Natale perché lì ce li fanno in piazza, la parte nord del Corso ne fruisce compresa la Lapini che dicono che è stata lei a rummecare un po' ogni cosa. Perché c'è un negozio supera in Corso. Lei si difende dicendo giustamente? Io non credo. Io ho il negozio lì da innumerevoli anni, da prima che si c'è. Ha ragione la Lapini, lei c'ha il negozio. Questi mercati io ho dei dubbi che diano qualcosa alla città perché vengono niente, non sembra niente. Ti dovrebbero piacere perché sono tirolesi. Come te sei tiroleso. No, io sì. Nel senso che non ti tira pure, tiroleso. Sì, hai parlato con qualcuno, hai parlato con qualcuno. Era una battuta. Comunque il problema vero è che mentre sono molto carini quell'abbamento del prato perché effettivamente i bambini... La ruota panoramica, quella è veramente... L'assessore è stato una persona che mi diceva. Chi è che l'ha piazzata quella? L'assessore Comanducci è comune, quello è bello. Ma i mercatini... Anche perché ricorda il prater di Vienna. Il prato, il prater, capito? Le prove si fanno al prater. Ma te lo sai che ultimamente... Ho girato, ho girato. Sì, sì, sì. Te però non te riconosco più. Non hai più un filo di tosse. No, niente. Non hai più il catarro, non te lacrima l'ho. No, no, c'è anche qualche altro difetto che non si può dire. Al Peloni che gli racconto? Che gli piace quando tossicci, che io mi scanto. E lo vedi, a Peloni di dirgli che mi ha curato. E sicché... Te mica ti dispiace, fammi una finta tossita. Ecco, così Peloni è contento. Salutiamo. Ma che salutiamo? Dei mercatini, non si è detto niente. Va bene i mercatini. No, va bene i mercatini. No, continua. No, no, a me non piacciono. Non è vero della... Ma te cosa puoi fare per il lato sud del corso? Te stai qui da San Michele in giù. Ma che devo fare? Ma che devo fare? Te fai qualcosa te. Ma che faccio che? Che cazzo ne so? Ma io... Ma io... Ma la fa qualcosa su per Città di Castello, dove stai lì in campagna, quei poggi lì, nessuno sa neanche dove stai. C'è proprio Bischere. Ecco, di mio. Invecchi, di tuo. Di mio, eh. Te sei Bischere, tu hai... A Castello, tu sei coglione. E tu andi il sano. No, capito. Invece te sei furbo. È tutto qui il problema. Tossitina? Ciao. A questa settimana sono assente. Ah, non c'è? Non c'è. Ce ne faremo una ragione. Piangerete tanto. Piangerete.